e mi si è bloccato pure sto telefono cioè praticamente c'è do cazzotti si imballa mi va mal dopo mi innervosisco con dati cazzotti e me lo tengo in goccia insomma è tutto un cazzottavo ragazzi non ho tempo per fare la diretta perché c'ho da fare mi sembra che va scordinato comunque non fa niente noto con molto piacere che sono tornati gli eters benvenuti su questo canale mi siete mancati perché come si dice l'unione fa la forza o negativa o positiva sempre una forza siete comunque ragazzi volevo ricordarvi che stasera grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti